allora il primo il primo della serie vamos ok prendo delete perché un if 87 non male non male prendiamo delete vediamo il secondo secondo della serie bom ragazzi è stato un piacere io me ne vado ciao ragazzi grazie mille a tutti veramente gra grazie ragazzi scusatevi vi chiedo scu arrivederci il giocatore che volevo